A teatro in piazza l'orchestra Sinfonica Rossini riempie di musica le feste pesaresi a partire dal 6 dicembre con il primo Pesaro Music Award fino al tradizionale concerto del primo dell'anno. Sì, Sinfonica 3.0 inizia a dicembre e ci siamo ritrovati proprio assieme all'assessore Daniele Vimini a fronteggiare quattro appuntamenti tutti importanti e tutti istituzionali e da qui abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa per il primo segmento, quello del mese delle feste di questa stagione. Continuando nella politica di trasformare il semplice, concedetemi questa definizione, il semplice concerto in un evento fortemente identitario, ci troviamo a quattro eventi in cui ognuno ha una forte identità. Il primo, il 6 dicembre, è la prima edizione della nuovissima iniziativa Pesaro Music Awards, cioè un premio per la musica che vorrà sottolineare il merito di grandi artisti internazionali e di artisti del territorio che hanno avuto successo nel mondo della musica nel mondo, quindi grandi artisti. Il secondo appuntamento, il 20 dicembre, è una sorta di concerto di Natale in beneficenza. Gli artisti del territorio, rappresentati in questo caso da tre cori e tre bande, contribuiranno a una raccolta di beneficenza a favore del progetto Abbraccia un bambino della Caritas, che altro non è che adotta un bambino, però in questo caso il bambino è di questo territorio, per cui ci sembrava un progetto ideale per questo periodo di natalizio. Il terzo appuntamento è il concerto di Natale, organizzato insieme a Xan Italia, quello in Piazza del Popolo. Quest'anno abbiamo pensato che potesse essere bella l'idea di trasformare la Piazza del Popolo in una vera festa musicale, quindi abbiamo scelto il gruppo degli Abba, con gli arrangiamenti di Roberto Molinelli, Clarissa Vichi e Valentina Riemma, soliste, e l'animazione danzata di Center Stage. Terminiamo questa serie di quattro eventi con il concerto di Capodanno, quindi il Brindisi, nel luogo che per noi è più importante della città, il Teatro Rossini, assieme all'orchestra grande e completo per eseguire i waltzer di Strauss, e siccome inizia un anno betoveniano, il quinto concerto per pianoforte di Beethoven, detto Imperatore, con Pietro Bonfiglio al pianoforte e il nostro direttore artistico Daniele Agiman come direttore d'orchestra. Termino davvero ringraziando il Comune di Pesaro, assessorato alla bellezza nella persona di Daniele Vimini, ex Anitalia e il suo patron Franco Signoretti. Nella città della musica questo mese di dicembre davvero propone iniziative per tutti i gusti, grazie all'orchestra sinfonica Rossini e anche in spazi diversi della città. Sì, diciamo il Natale di Pesaro ormai è diventato riferimento a livello nazionale per bellezza, organizzazione, scenografia, lavoro sulla piazza e quindi già questa sarebbe un'attrazione straordinaria che poi dall'altro ospita in tutto il periodo natalizio, anche spettacoli, artisti, performance di vario genere insomma, con un occhio molto rivolto anche ai bambini, e alle famiglie come naturale che sia nel periodo di Natale e in più grazie alla programmazione dell'orchestra sinfonica si aggiungono quattro momenti musicali di assoluto rilievo che dialogheranno appunto nei luoghi stessi del Natale ma anche nei luoghi classici ovviamente del teatro e della musica, quattro appuntamenti diversi ma fortemente rappresentativi dello spirito di pesaro città della musica. Quindi un grazie all'orchestra sinfonica per come riesce ad arricchire questa programmazione e anche noi siamo molto contenti perché ovviamente così ci fa essere ancora di più peso c'è la musica anche sotto le feste.